L'unica punta centrale è proprio Marco Divai. Coné con una tantolini, che giocata del Greco! All'Univata ha preso bene posizione con il corpo Portanova. Vai a prestare la magia di Coné, mette giù lo spagnolo, cerca Coné, la sponda per Tider. Ancora Coné, il movimento di Morleo è partito, la palla è perfetta, Morleo...